eccoci becca amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale allora so già cosa state pensando e probabilmente avete anche ragione ma siccome io alle volte combino dei bei guai particolarmente al mio sapore sempre che cosa combinato e far vedere un attimo una cosa si smuoverà tutto un po forse ma acqua o uno schermo piccolo secondario che uso maledetto no quello che avevo prima detto vabbè lascio lì secondario nel caso in cui registro e poi ripeto le cose come dico sempre no che vedo le cose nel secondo schermo ecco ho rotto lo schermo principale molto molto bene tranquillo serio di pacchetti led per questo mi trovo qua a dirvelo fondamentalmente niente questo video è solamente informativo non guardate questo schermo come girare le palle a registrare le cose uno perché è piccolo risoluzione piccola tutte queste cose qua due non ci stanno le cose se devo controllare una cosa una mezza cosa di qua di là uno schermo solo è di queste piccole dimensioni un po meno facile rispetto a prima avevo due perché sono neanche full hd tutte queste cose qua e va bene detto questo però sto notando che alcuni miei vecchi video che ho fatto stanno andando bene uno in particolare a andando molto molto bene che come si chiama quello che ho fatto una pop su river gaming che denuncia baldi non era andato nel senso era andato benino all'epoca più di un anno fa quando l'avevo fatto e adesso più di mille vi uso da così a caso andatevelo a vedere metterlo nelle schede in alto da qualche parte dove sono qua sopra nel caso in cui voleste vederlo se non l'avete ancora visto boh niente video blog più breve della di solito perché non ho molto da dire fondamentalmente però niente per dirvi che effettivamente ho rotto sto schermo ho fatto patatrack e basta non c'è devo aspettare compare un altro adesso vedrò quale offerte quale sarà il migliore sono in alcuni schermi molto molto belli e simpatici per controllare l'altro mi si è rotto anche il portacuffie e secondo che si spacca questo non ho idea di come si sia rotto non ne ho idea e va bene capita si spaccano le cose o se uno non le usa mai le cose non si rompono se uno le usa meglio che si rompono che non le usa piuttosto che non romperle e non usarle e vabbè detto questo io che devo fare devo salutare e va bene così tanto sto tre minuti di registrazione video breve flash veloce edito a niente questo l'intro e altro e basta niente vi ricordo mettere mi piace vedere tutti gli altri video sul canale che ritrovate e niente seguimi su instagram che trovate in descrizione e niente non ho voglia neanche di mettere qua di fianco la cosa forse non lo so sempre il solito riquadro intendo non lo so vabbè fa niente sta di fatto che vabbè ok sto video è solo informativo l'informativo e basta ciao ciao